Vecino, Fiorava, te l'abbiamo vettato, ecco Mario, ma che c'è la Cifreconi? Mario, è un po' bassino, questo è Lunanette, ma non in modo offensivo perché Lunanette è molto intelligente, per esempio c'è stata un attore che ha fatto il film di Ercole Magistris, all'un cinema di Don Cirilla, c'era sempre l'attore che era Manu, in questi film, e poi è venuto ad abitare a San Salvo, non mi ricordo il nome, però poi lo passerò, la fotografia è di qui, che le vesti, ma quando hai uno è alto? Io sono andato a San Salvo, questo è uno città ammellano, che significa? C'è ammellano, è grosso, è alto, è una città ammella, questa è una città ammella, no? E se lo sai a San Salvo, l'altezza è mezza bellezza, bravo, questo è una cosa che c'è a cascata, però, se vuoi cogli una fegola, più grande è sempre più grande, però, oltre all'altro c'è un'altra città ammella, guarda che svelatola è questa, una svelatola, una svelatola, però ha lo stesso significato, guarda, sentite, che dici? Guarda che dice che è simile, non spungo l'auna, ma guarda che svelatola, e la svelatola si dà a 16 anni, ma vuoi? Dici una nuvuletta, è una svelatola, una svelatola, una svelata, una svelatola, aspetta, una svelatola, è una svelatola. Questa è una svelatola, e l'espetta, la svelatola, è una svelatola. Vedete, va lei ci puoi andare in mente, vedete, guarda che la maschera... Può essere pure un'altra cosa, può essere pure un'altra cosa, è altra. però c'è pure un altro fatto c'è pure un altro fatto che tutti vogliono il posto al sole tutti vogliono il posto al sole dopo che andavano a muore vanno trovando tutto il frasco pure anche le macchine a parcheggiare però tutti vogliono un posto al sole vogliono l'ombra nella vita vogliono un posto al sole dopo che andavano a vedere l'altra cosa vedi se mi hai detto che le chiede però una cosa che mi ha sembrato a me è qua quando mi dicevo questo è uno santo qua quello è uno santo questo è un rocco l'unico santo che si dice questo è uno santo qua sai perché? perché il santo rocco non cresceva neanche a suoi salacchini è un grosso allora si dice è uno santo rocco perché è uno grosso quindi santo rocco se uno è grosso si dice pure santo rocco santo rocco qua ok grazie amici oh prego prego oh ci vediamo Gino ciao ciao vediamo Gino allora io mi sei detto vediamo prima è un'altra volta una volta vai ti segnalerò di per una sola volta vorrei andare così contro le basse eh non si dico è una basse è una torre a peone è una torre a peone è una torre a peone come una zolla allora Bernard già che ci siamo visti buona domenica e buona festa dai grazie oggi è la festa dei nonni quindi è la nostra festa oggi è la festa dei nonni quindi buona domenica e buona festa dei nonni dimmi 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 bravo bravo una voce meravigliosa melodica che non è quale deve stare me la sono andata a mancare la televisione ti ringrazio ti ringrazio mille volte ti ringrazio sì ma io finisco un'altra battuta se non è un po' meno io le ho freddo qua a fare e quella è io le ho freddo qua no lo ringrazio ma non lo voglio ok ciao ciao a tutti lo ringrazio Fiorava ma non lo voglio ciao 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 Grazie per la visione!